Prima di campionato al Gino Mani per la Colligiana che affronta la Vigor Carpaneto, ospiti pericolosi in avvio con Rantier che non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Allora la Colligiana con Bigoni calcia fuori l'ex Robur Siena. Al minuto numero 14 Silla sblocca il risultato e dunque vantaggio per la squadra di Alberto Mantelli. Ancora Silla che raddoppia dopo praticamente 60 secondi il lob con il mancino per il calciatore senegalese classe 98. Sempre lui, sempre protagonista assoluto di questa gara è Silla il numero 9 della Vigor Carpaneto che sfida Taffi nell'uno contro uno di forza ma anche con un gran destro colpisce il palo poi sprecherà Rantier. Il 3 a 0 arriva al minuto numero 44 con il destro Silla supera Squarcialupi e fa 3 a 0. Con le immagini siamo nel secondo tempo con il calcio di punizione di Cristiano. Parata semplice per terzi ancora la Colligiana che tenta di rendersi pericolosa su situazione da angolo. e nuovamente i biancorossi che tentano di accorciare le distanze ma non c'è nulla da fare e finisce 3 a 0 in favore della Vigor Carpaneto.